Eccoci, buonasera, è la giornata scandita dalla votazione che sta per iniziare e su cui si è impostato tutto il dibattito parlamentare al Senato sulle due mozioni di sfiducia contro il governo. Un clima molto teso che risentiva anche della conclusione appena pochi giorni fa di tutta la campagna elettorale referendaria e anche poi del dibattito sull'esito del referendum Trivelle stesso. Si è intrecciato tutto praticamente, le mozioni di sfiducia, la vicenda della Basilicata, Tempa Rossa, Vigiano, ma anche appunto il referendum, il petrolio. Su tutto anche l'intervento che è stato molto forte e perentorio di Matteo Renzi, il Premier punto su punto ha replicato ai suoi avversari. Certo le distanze si sono semmai acuite invece di ridursi, perché Renzi ha ricordato il volta faccia dal suo punto di vista di chi aveva all'inizio preso parte a una serie di decisioni parlamentari, salvo ora usare il tono duro dell'opposizione netta, riferimento è a Forza Italia, sta tentando di essere irridente nei confronti dei Cinque Stelle, ha ricordato come su punto su punto il governo sia garantista, non ritenga un avviso di garanzia all'anticamera di una sentenza, anzi e non a caso il PD ha fatto intervenire il senatore Margiotta, che proprio dai magistrati lucani era stato indagato, processato e poi mandato assolto. Ma vedremo anche che, ovviamente se ci sarà la prima delle due votazioni sulle mozioni di sfiducia, che sono due, una Cinque Stelle e una delle altre opposizioni, ve ne daremo conto nel corso del giornale. Ma vedremo che il dibattito è attento a queste cose, ma forse dovrebbe esserlo ancora di più alle altre notizie carine. Primo, Boeri, il presidente dell'Inps lancia l'allarme, la generazione del 1980 è la prima che potrebbe trovare brutte sorprese sulla pensione, e ha spiegato perché, soprattutto per chi ha tardato o ha avuto interruzioni nell'arrivare a un'occupazione, a un lavoro. E poi anche però l'allarme, le preoccupazioni, per meglio dire, del governatore della Banca d'Italia, Visco, ancora sulla condizione delle banche, parole che hanno provocato un contraccolpo negativo per i titoli del credito in borsa. Ma vedremo anche a livello internazionale quanto ancora sia in salita la strada per un'intesa sui migranti che non sia soltanto quella abborracciata e che torna a essere in difficoltà con la Turchia. E anche la giornata delle primarie più importanti, forse, negli Stati Uniti, nella corsa alla Casa Bianca, quella nello Stato di New York, Stato Natale per Trump e per Sanders, Stato di elezione in tutti i sensi per Hillary Clinton. Questa notte si saprà troppo tardi per fare un'altra maratona, visto che si vota fino alle 3 e fino alle 3 non ci sarebbe nulla da dire. Ne parleremo domani in prima mattinata con i nostri programmi. Ma vedremo che c'è però anche altro. C'è una notizia di cronaca, un processo, un caso che fece scalpore l'uccisione del tifoso napoletano prima della finale di Coppa Italia due anni fa. Ebbene è stato chiesto l'ergastolo per l'ultraromanista De Santis che ha gridato buffoni ai giudici che dovranno emettere la sentenza. Questo è altro. Tra 30 secondi i nostri titoli. Pomeriggio di scontro oratorio al Senato. Prima del voto sulle due mozioni di sfiducia al Governo, quella dei 5 Stelle e quella del centrodestra, deciso dopo le dimissioni del Ministro Guidi e l'inchiesta di potenza. Renzi difende l'operato del Governo e per 40 minuti entra nel merito di numeri e misure. Parole forti sulla giustizia. Un avviso di garanzia non è una condanna. Siamo da parte dei magistrati, arrivino però presto a sentenza. E il dibattito continua in un clima atteso, con toni alti. Si allungano i tempi per le votazioni che arriveranno in serata, l'ultima forse inottata, che il Governo dovrebbe superare indenne. Si risente della partita referendaria, ma per le opposizioni la vera sfiducia, questo negli interventi sarà a ottobre, con la resa dei conti del referendum sulle riforme costituzionali. Dopo Draghi, anche il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, parla di generazione perduta e lancia l'allarme che nel suo caso è riferito a chi è nato negli anni Ottanta e rischia di andare in pensione a 75 anni con un assegno minimo. Boeri torna a chiedere flessibilità in uscita per aiutare l'occupazione giovanile. Dal Ministro Padoan timida apertura, i margini ci sono con la possibilità di fonti di finanziamento complementare. Servirebbero 5-7 miliardi. Il Governatore della Banca d'Italia, Visco, esprime un moderato ottimismo sul futuro delle banche italiane, ma ritiene al momento il sistema ancora vulnerabile. Visco guarda col favore al Fondo Atlante per recuperare dei crediti deteriorati, anche se devono essere affiancati da altri interventi e la borsa ne risente. Il Presidente turco Erdogan avverte Bruxelles che l'Unione Europea ha bisogno della Turchia più di quanto la Turchia non abbia bisogno dell'Unione Europea. Frasi al limite del ricatto. Intanto a Strasburgo il braccio di ferro tra Davutoglu, Premier turco, e Juncker, Presidente della Commissione Europea. In sede dei 28, l'accordo sui migranti è ancora molto lontano. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Daniele De Santis, l'ultra giallorosso accusato dell'omicidio di Ciro Esposito, il tifoso napoletano a cui sparò il 3 maggio 2014, prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, e che morì dopo un'agonia di 53 giorni. Buffoni, il commento usato, urlato da De Santis, mentre veniva portato fuori dall'aula del processo. Buonasera, le tossine del dibattito e anche del risultato del referendum sulle trivelle evidentemente sono ancora lì e hanno reso ancora più teso, se possibile, il dibattito, la giornata, il pomeriggio del Senato, alle prese con la discussione e poi la votazione, che deve ancora avvenire, delle due mozioni di sfiducia contro il governo per la vicenda Guidi, Tempa Rossa, Vigiano, insomma quella che ben conoscete, la questione che si è intrecciata proprio con la campagna elettorale per il referendum che si è chiuso domenica, col risultato che ben sapete. Un dibattito che ha avuto il suo fulcro, il suo momento più forte, 40 minuti di discorso peraltro, nell'intervento proprio del Presidente del Consiglio. Io sono per la giustizia, sempre, non per i giustizialisti. Io credo nei tribunali, non nei tribuni. Io rispetto le sentenze dei giudici, non le veline che violano il segreto istruttorio. Un avviso di garanzia, strumento processuale a tutela dell'indagato, è stato per oltre vent'anni una sentenza mediatica definitiva. Vite di persone per bene, vite di persone per bene, sono state distrutte, mentre i delinquenti, mentre i delinquenti avevano il loro guadagno nell'atteggiamento demagogico e populista di chi faceva di tutta l'erba un fascia. L'attacco più duro arriva a metà di un intervento iniziato quasi sotto traccia. Al Senato si dibattono le mozioni di sfiducia al Governo sul caso Potenza, l'inchiesta sulla concessione estrattiva di Tempa Rossa che ha portato alle dimissioni della Ministra dello Sviluppo Economico Federica Guidi e ad una serie di scosse di assestamento nel Governo con un sottosegretario indagato, il Lucano De Filippo. Noi siamo dalla parte dei magistrati, l'inchiesta deve andare avanti, dice Renzi, che però si dice piuttosto certo che alla fine le cose si ridimensioneranno e gli unici ad essere chiamati a rispondere saranno i 5 Stelle. Credo che l'unica ipotesi di procedimento penale che nascerà da questa vicenda sarà quella su cui vi chiameremo a rispondere della diffamazione nei confronti del Partito Democratico e su cui spero che rinuncerete all'immunità parlamentare, voi cittadini. Le sentenze si fanno nei tribunali, non nei blog, con la password, l'attacco di Renzi, rivendichiamo di aver sbloccato l'Italia. Se sbloccare l'Italia è un peccato, accusateci, il reato non c'è. La difesa è l'operatore del Governo, l'attacco ad un'opposizione accusata di aver messo in un calderone una serie di accuse al Governo per fare un'operazione velleitaria, come la mozione di sfiducia che non ha i numeri per passare. Il finale è una sfida, parlare di cose concrete. L'Italia non è nelle sceneggiate da talk show e altrove, dice, parafrasando, senza citarlo esplicitamente, l'ultimo segretario di C, Martinazzoli. L'Italia è altrove, la politica è altrove. Quando avrete finito con le vostre sceneggiate televisive, noi vi aspetteremo là. Parole di sfida, parole che citano, praticamente in modo esplicito, un famoso discorso parlamentare di Mino Martinazzoli, che allora era il capogruppo della democrazia cristiana e se non sbaglio fu il giorno in cui praticamente si decise lo scioglimento delle camere dopo la rottura tra Craxi e la DC. Verrà il tempo della politica, la vi aspetteremo. Successi dopo le elezioni anticipate che si rincontrarono, per dire il vero. Ma qui è altro, qui è la sfida aperta che inizia praticamente dal primo giorno della legislatura, dagli incontri in streaming, soprattutto tra PD e 5 Stelle, in un clima, quello appunto incandescente di Palazzo Madama, questo pomeriggio, per le emozioni di sfiducia e gli interventi al loro sistema. A tratti acceso, a tratti noioso, quasi mai appassionato, il dibattito sulle emozioni di sfiducia risente del risultato referendario sulle trivelle che praticamente ha visto le stesse forze di opposizione unite contro il governo e in misura minore anche della campagna elettorale amministrativa in corso. La vera sfiducia sarà a ottobre, dicono le opposizioni, rinviando la vera resa dei conti al padre di tutti i referendum, almeno per il 2016, quello di ottobre sulle riforme costituzionali. Dice Gianmarco Centinaio, Lega Nord. Quello che aspettiamo e quello che ci aspettiamo è che la mozione di sfiducia la presentino i cittadini italiani a ottobre nei confronti di questo governo. Proprio oggi le opposizioni, tutte insieme, hanno raccolto alla Camera le firme necessarie alla richiesta del referendum, così come prevede la Costituzione. Ma si tratta in realtà solo di un gesto simbolico, visto che lo stesso governo ha previsto il referendum come test decisivo. Anche Forza Italia rinvia all'autunno i conti col governo accusato di totale inadeguatezza. Lei avrà la fiducia di quest'aula, ma non avrà la fiducia del paese, dice Marco Marin. E Lucio Malanna, fonda sui temi economici. Mentre è decresciuto il PIL del 3%, il debito è aumentato di oltre 300 miliardi. E sulla stessa lunghezza d'onda sono anche i 5 Stelle, dice Vincenzo Sant'Angelo. Lei ci ha stancato. Lei ci ha stancato. Presidente Renzi, Presidente Renzi, le do soltanto un ultimo consiglio. Prenda i suoi quattro stracci, raduni tutta la sua banda di governo e vada fuori! Fuori! Due ore fitte di discussione, ma senza crederci troppo. Il risultato del referendum va elaborato e la politica ha i suoi tempi e quello dell'eventuale rivoluzione è fissato, naturalmente, a ottobre. Questo è il resoconto di questo pomeriggio parlamentare. Teoricamente si dovrebbe votare, si doveva votare già in questi minuti, ma se vediamo un attimo la diretta dal Senato ci conferma che in realtà sono ancora in corso le dichiarazioni di voto e sta parlando, come vedete, il senatore Danna che è del gruppo che leggete, Alleanza Liberale Popolare Autonoma, che poi, peraltro, è la famosa ala di Verdini e che è considerato ormai a pieno titolo un appoggio esterno della maggioranza di governo. Ma ve l'abbiamo mostrato e possiamo tornare in studio per dire che evidentemente mancano ancora tutti i gruppi principali per la loro dichiarazione di voto. Ci dovrà ancora del tempo e sicuramente la prima votazione non sarà nel corso del nostro telegiornale. Lasciamo, e comunque pronti a tornare se ci saranno novità, questo importante momento politico al Senato per parlare di temi forti. Ce ne sono tanti di questa giornata e di questo giornale. Innanzitutto, il nuovo allarme. Ci aveva pensato qualche giorno fa lo stesso presidente della Banca Centrale Europea Draghi a parlare di rischio lost generation, di una generazione perduta, di giovani soprattutto per il problema della disoccupazione. Ha rincarato la dose in salsa italiana il presidente dell'Inps Boeri. Attenti perché quei giovani rischiano di non avere neanche la pensione e di averla tardissima comunque. Non è stato esattamente un anno trionfale il 1980. La strage di Bologna, quella di Ustica, il terremoto in Irpinia funestarono le cronache. Niente sapevano ovviamente di ciò che accadeva ai bimbi nati allora, oggi 36 anni, definiti però poi senza speranza alcuna generazione perduta. Colpa del lavoro in realtà non della cronaca nera. Quanti di loro infatti riusciti magari solo grazie agli incentivi o al Jobs Act a ottenere il primo contratto a tempo indeterminato della loro vita staranno pensando alla pensione. Tappa, che stando alle parole del presidente dell'Inps Tito Boeri rischia di assumere contorni mitologici perché semmai riusciranno ad andarci lo faranno tardi, molto tardi, diciamo verso i 75 anni e l'assegno che riceveranno sarà intorno ai 1000 euro a dire tanto. Non è una novità di oggi, sono almeno 3 o 4 anni che chi si occupa di previdenza sottolinea il rischio, così come chi si occupa di macroeconomia. La definizione di generazione perduta l'ha usata spessissimo anche il presidente della BCE Mario Draghi per dire. Solo che oggi questo non è più un rischio ma una certezza messa nero su bianco dai calcoli fatti dall'Inps stessa al momento di cominciare a mandare agli italiani le tanto annunciate buste arancioni, quelle che per l'appunto dovrebbero dirci nel modo meno traumatico possibile quando potremo smettere di lavorare. Ed è facendo quei conti che Boeri ha scoperto diciamo così buchi contributivi a volte lunghi bastano due tre anni senza impiego tanto da non permettere il ritiro dal lavoro fino come dicevamo ai 75 anni d'età. Si può rimediare? Boeri dice di sì dice che lui le proposte le ha fatte che ora tocca al governo decidere ma dice un'altra cosa dice che di tempo da perdere ce n'è pochissimo e che i provvedimenti tampone non servono a nulla bisogna riformare la riforma quella della Fornero naturalmente Padoan il ministro dell'economia invitato a parlare in commissione finanza del DEF oggi ha detto che sì allo studio c'è qualcosa ma è stato decisamente vago troppo questo è l'allarme l'allarme che riguarda una generazione ma anche quelle successive e che riguarda comunque le famiglie perché i giovani che stanno a casa che non trovano lavoro che hanno difficoltà che non sono in grado di mantenersi per un lungo periodo da soli gravano sulle loro famiglie e sono fonte di preoccupazione legittima per il loro futuro da parte delle famiglie e comunque sono un elemento distorsivo del nostro sistema è la prima volta è stato detto tante volte che una generazione non può sperare meglio della precedente per sé e anche di questo la politica maggioranza e opposizione dovrebbe occuparsi molto di più ci sono altri argomenti forti però sappiamo bene che la nostra società il nostro paese le nostre forze dell'ordine la nostra politica stanno per fronteggiare probabilmente un'altra ondata di migranti con la stagione bella il mare calmo la rotta di terra e dei balcani inchiusa il rischio è forte un'alleanza obbligata ma attenzione è l'Europa ad avere più bisogno della Turchia non viceversa ancora una volta l'ennesima Taip Erdogan lo ripete sulla crisi migratoria facciamo il nostro dovere l'accordo preso esattamente un mese fa con Bruxelles lo rispettiamo dice il presidente turco ma il tono d'avvertimento nelle sue parole è evidente se il piano di contenimento dei flussi di profughi dovesse saltare sareste voi a rimetterci di più non è piaciuta ad Ancara la risoluzione dell'Europarlamento che una settimana fa ha denunciato i passi indietro della Turchia in tema di diritti fondamentali libertà d'espressione di stampa in testa è una provocazione ha detto Erdogan praticamente in contemporanea al suo premier Davutoglu che a Strasburgo davanti il Consiglio d'Europa proprio sull'accordo del 18 marzo ha fatto i primi conti 10 miliardi di dollari ha speso finora la Turchia per accogliere i rifugiati siriani nei campi ma dal contributo internazionale è arrivato solo mezzo miliardo tutte le clausole dell'intesa sono state attuate sostiene Davutoglu tanto che nessuno dei 28 paesi dell'Unione ha avuto in merito qualcosa da ridire è la Turchia invece che oggi può parlare visto che i 3 miliardi accordati per l'accoglienza devono ancora arrivare ma non è solo questione di soldi Ancara e l'Unione Europea devono integrarsi a partire da una storia e valori comuni dice il premier turco traduzione l'apertura ai visti più facili per i cittadini turchi in Europa punto centrale dell'accordo del mese scorso deve partire in fretta in realtà prima ancora che fosse firmato il patto sui migranti il Parlamento europeo aveva messo in guardia la commissione sul non staccare un assegno in bianco alla Turchia accelerando l'iter di adesione all'Unione in cambio del piano per riprendersi indietro i migranti irregolari l'intesa funziona non c'è bisogno di minaccia replicato il presidente della commissione di Bruxelles Juncker poi con l'applicazione di tutte le norme previste nel testo arriveranno anche i visti più facili dalla Grecia intanto partono i profughi senza i requisiti per l'asilo e dai primi del mese è scattato lo schema uno ad uno per ogni siriano entrato illegalmente riaccompagnato in Turchia uno in attesa nei campi viene accolto in Europa secondo i conti dell'organizzazione internazionale per le migrazioni da gennaio in Grecia sono arrivate via mare 153.000 persone 25.000 in Italia in totale poco meno di 179.000 profughi in 4 mesi e 737 sono le vittime dei naufragi della speranza nel Mediterraneo questa notte alle 3 si saprà come sono andate le primarie democratiche e repubblicane nello stato di New York un momento molto atteso e cruciale della politica americana perché da New York si vedrà se Trump è imbattibile tra i repubblicani se Hillary ha conservato il vantaggio su Sanders e tanto altro in una sfida che le racchiude tutte raramente i candidati alla Casa Bianca arrivano fino alle primarie di New York per cercare i voti necessari ultimamente però accade sempre più spesso già nel 2008 con l'intramontabile Hillary Clinton che si aggrappava alla fedeltà dei suoi new yorkesi per cercare di resistere all'astronascente Barack Obama anche stanotte New York deve fare il miracolo per Hillary darle una vittoria chiara contro Bernie Sanders e consegnarle la stragrande maggioranza dei suoi preziosissimi quasi 300 delegati giorno dopo giorno comizio dopo comizio il senatore del Vermont continua a rosicchiare le punti la lotta tra i due candidati democratici qui nella grande mela ha preso la piega prevedibile del cammino sulla strada dei ricordi entrambi come Trump del resto si considerano new yorkesi doc anche se ad esserci nato e vissuto per tutta la vita è solo il miliardario repubblicano ragazzo del Queens Sanders è di Brooklyn ma sono decenni che nessuno lo ha più visto per le strade di Flatbush Hillary è di Chicago come dicono i suoi detrattori ha comprato la sua strada nel cuore dei new yorkesi grazie a Bill Clinton che dopo essere stato presidente ha deciso che il suo ufficio dovesse sorgere nel cuore della new york afroamericana a Harlem da lì l'ascesa di Hillary come senatrice dello stato la lotta assume contorni anche divertenti per ricordare a tutti da dove provengono i candidati si sottopongono a riti new yorkesi che in realtà non gli appartengono girare in metropolitana mangiare hot dog nei luoghi dove sono speciali abbuffarsi di new york cheesecake le origini della grande mela non sono comunque servite a Sanders per fare il sorpasso i seggi sono aperti si vota da qualche ora ed Hillary è accreditata di un vantaggio cospicuo in doppia cifra new york non l'ha tradita incasserà una buona fetta dei quasi 300 delegati in palio il lancio verso altri due stati a lei favorevoli Pennsylvania e Maryland con altre 300 test che potrebbero fare la differenza per trump è una passeggiata se esiste una figura che i new yorkesi detestano per tutto quello che rappresenta il texas la religiosità ostentata la provincia profonda la mania delle armi è Ted Cruz quanta che esige non ha chance sono giorni che viene preso in giro solo perché a new york dove da sempre si vantano di fare la migliore pizza non d'america ma al mondo ne ha voluta mangiare una fetta con forchetta e coltello torniamo in Italia per parlare di ancora una volta delle banche croce e delizia delle cronache di tutte queste giornate sembrava tutto rimesso in asse con il varo il lancio del fondo Atlante e con i primi effetti sul sistema e anche sulla capitalizzazione in borsa dei vari istituti di credito e anche oggi sembrava una giornata tranquilla sotto questo profilo fino al momento in cui però cosa è successo che il governatore della Banca d'Italia ha detto tra una frase e l'altra qualche parola che ha fatto riaprire i dubbi sulla capacità dei nostri istituti di credito di affrontare la situazione Occorre fare di più lo dice il governatore Visco nell'audizione al Senato il tema è sempre lo stesso quello delle sofferenze bancarie dei crediti deteriorati che rappresentano ancora il punto dolente del sistema italiano le sue parole sommate al nuovo rinvio del decreto governativo che dovrebbe risarcire i risparmiatori colpiti dal fallimento di quattro banche non hanno certo incoraggiato gli acquisti dei titoli del settore a piazza affari e così il comparto bancario ha fatto segnare un'altra giornata in rosso sui listini di borsa ma il governatore della Banca d'Italia Palazzo Madama ha anche espresso un moderato ottimismo per il futuro spiegando che le misure già varate o in arrivo sul recupero crediti il fondo Atlante e la tanto attesa ripresa economica potrebbero rappresentare il punto di svolta per il sistema Visco ha ancora una volta difeso l'operato e la vigilanza della Banca d'Italia che a suo dire ha prevenuto una crisi generale del sistema e nel caso Montepaschi si è presa anche un rischio personale chiedendo la rimozione dei vertici pur non avendone i poteri ma sono le banche che devono attivarsi per gestire internamente le sofferenze cedendole seppure con gradualità il fondo Atlante dotazione attuale 5 miliardi di euro risorse quasi interamente private sarà utile se nel frattempo si riuscirà anche a velocizzare i tempi di recupero dei crediti le nuove misure preparate dal governo sono peraltro pronte ma il decreto che Palazzo Chigi avrebbe dovuto licenziare domani è stato rinviato di un'altra settimana nello stesso provvedimento andranno anche i fondi necessari agli indennizi per i risparmiatori delle quattro banche fallite da 100 milioni di euro passeranno a 300 milioni di euro coprendo in pratica la totalità dei risarcimento è stato smentito da tutti l'allarme che è stato lanciato dal giornale tedesco Bild riguardo ai rischi per la prossima estate di azioni terroristiche sulle spiagge che cosa è successo? che la Bild ha scritto un articolo ha pubblicato un articolo in cui si citano senza fare nomi fantomatici servizi segreti tedeschi e italiani che avrebbero constatato che c'è effettivamente il rischio di un tipo di azione terroristica come quella che purtroppo invece davvero si è vista in Tunisia sulle spiagge italiane spagnole e forse anche francesi da quando è stato pubblicato l'articolo per tutta la giornata ci sono state solo smentite pare difficile poter immaginare che questa estate si ricominci a scrutare ogni quello che una volta chiamavamo vucumprà ogni venditore sulla spiaggia per capire se si tratta di uno che ha le perline i tappeti oppure gli ordini una fesseria insomma come capita perfino ai giornali tedeschi e di scrivere andiamo a vedere un processo che si avvia a conclusione forti passioni forti odi ma soprattutto un omicidio per lui per lui quindi ritenuti avvinti tutti i reati il vincolo della continuazione debba essere ritenuta giusta e adeguata la pena del gasto nell'aula bunker di Rebibbia al termine della requisitoria il pubblico ministero Albamonte ha chiesto il massimo della pena nei confronti di Daniele De Santis nessuno sconto per Gastone l'ultra della Roma simpatizzante di estrema destra accusato per la morte di Ciro Esposito il giovane tifoso del Napoli ferito gravemente il 3 maggio del 2014 nei disordini scoppiati non lontano dallo stadio olimpico poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli Esposito colpito da un proiettile al torace morì dopo un'agonia durata quasi due mesi in ospedale De Santis che anche oggi ha seguito l'udienza su una barella per le ferite ad una gamba riportate negli scontri di quel giorno di due anni fa all'uscita sprezzante ha insultato la corte siete dei buffoni non ho paura di morire l'ergastolo me lo do da solo ho sparato non con la mia pistola l'arma era di un tifoso del Napoli che non faceva parte del gruppo di Ciro Esposito ha sostenuto pochi giorni fa De Santis nella sua deposizione estremo tentativo di autodifesa in cui ha raccontato di essere stato a sua volta aggredito e di aver strappato l'arma ad uno dei tifosi campani che lo avevano inseguito nelle strade di Tordiquinto in base a quanto è stato ricostruito dagli investigatori della Digos sulla base delle testimonianze raccolte De Santis ritenuto tra i protagonisti dell'agguato ai tifosi del Napoli non era da solo altri quattro ultra della Roma vicini ad ambienti di estrema destra fuggirono lasciandolo in balia della reazione dei napoletani dopo il ferimento di Ciro Esposito per due di loro le richieste di condanna di pubblici ministeri sono di tre anni una versione quella di De Santis a cui non credono i legali di parte civile e i familiari del giovane tifoso ucciso la verità è venuta a galla nel processo ha detto Antonella Leardi la mamma di Ciro Esposito verità che mio figlio mi ha raccontato nei giorni dell'agonia la sentenza è attesa alla fine di maggio al campionato di calcio finito e con le curve già in vacanza in una data lontana da possibili tensioni in vista di Roma-Napoli in programma il prossimo 25 aprile brutte pagine del passato un breve passaggio invece al senato per vedere con quale ritardo viaggia la discussione siamo alle dichiarazioni del voto quella che vedete è la senatrice De Petris di sinistra italiana ex SEL tanto per intenderci mancano ancora molti capi gruppo che devono intervenire quindi prevedibilmente verso le 10 ci sarà il primo voto sulla mozione di sfiducia dei 5 Stelle dopo di noi comunque voi vi chiederete dov'è è nello studio di 8 e mezzo Matteo Salvini che sarà interrogato ovviamente oltre che da Lili Gruber anche da Antonio Padellaro e Massimo Franco poi c'è di martedì e con Giovanni Floris tanti ospiti come sempre due togati diciamo così in tutti i sensi si tratta del nuovo presidente dell'ANM Pier Camillo Davigo e del presidente della direzione nazionale antimafia Franco Roberti ci fermiamo allora nonostante la caduta dei titoli delle banche di cui vi abbiamo parlato nel servizio Piazza Affari ha chiuso oggi in positivo più 0,49% in questo momento contrastata Wall Street con Dow Jones che guadagna lo 0,20% in Nasdaq che perde lo 0,44% è tutto Gruber poi Floris ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti